Gli interessi, gli hobby, sono importantissimi nella vita di tutti noi perché ci mantengono vivi, ci mantengono giovani. Negli anni passati ci ho provato con il tennis, con il calcetto, con il corso di teatro, con il corso di chitarra fallimentare e non sapendo più da che pesci pigliare, essendo un periodo che non ho molti interessi, ho deciso di affidarmi a dei professionisti. Sono andato così in banca, ho chiesto un prestito con moltissimo interesse e adesso ho tantissimi interessi.